Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Questa settimana meno informazioni, ma più eventi. Il primo aprile, domani, inizia il primo festival concertistico Fagnano in musica. Sono 4 eventi divisi in momenti diversi e il primo è proprio dedicato al primo aprile a un recital chitarristico che sarà tenuto da Nicolás Nebuloni e si tirerà sabato primo aprile alle ore 21 in Aula Magna, benvenuto piazza di Piazza Alfredo di Dio. Da un'idea passata in consiglio comunale con una mozione, lo scorso anno è stata istituita la piazzetta dei diritti, piazzetta dei diritti che abbiamo creato e che verrà inaugurata il 2 aprile domenica alle ore 11 presso il parco Avisaido. La piazzetta dei diritti in questo momento è composta da 4 panchine, la panchina arcobaleno, la panchina rosa, la panchina blu e la panchina rossa. Non sto a spiegarvi a cosa sono dedicate, vi invito a presenziare all'inaugurazione di modo che così potrete ben capire il senso di questa piazzetta che con gli anni abbiamo intenzione di arricchire. Sempre domenica che è il 2 aprile della prima domenica del mese si terrà in Piazza della Repubblica, la Piazza Mercato, il mercatino degli obbisti organizzato dalla Proloco e sempre in mattinata al Castello Visconteo sono aperte le visite guidate organizzate dalla Proloco. Il 5 di aprile alle ore 19 in sala consigliare e in diretta streaming il consiglio comunale ordinario dedicato all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2022. Domenica è la Domenica delle Palme, inizia il periodo pasquale, inizio a farvi già gli auguri, poi settimana prossima li farò un po' più ampi, non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!